Di che parlano queste poesie di Brodsky? Beh, non ha importanza. L'impressionismo è l'essenza della sua poesia. In fondo non è così male, ma sono versi non educativi a chi sono indirizzati. E questa nave o il miraggio, che vorrebbero alludere? Dovremmo chiedere a Iepushenko, o a Dantokolski, Alexiev. Non vanno bene. Sono d'accordo. Non possiamo escludere Brodsky. È adatto al nostro giornale. Mi piacerebbe molto inserirlo. Gli ho anche chiesto di assumere una posizione socialmente costruttiva, ma non ha voluto farlo. Direi che per oggi è tutto. La riunione è finita. Vorrei scrivere qualcosa che... Salve. Grazie. Ti fintano della censura, ma non esiste. Ho letto dei versi che mi hanno particolarmente ispirata. Ci penserò. Le redazioni sovietiche hanno regole precise. L'incompetenza non è redditizia. Il talento allarmante. Il genio terrificante. La mediocrità è l'unico valore su cui scommettere. Buongiorno. 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 Si ricorda di me? Sono Sergei Davlaton. Vi ho mandato dei manoscritti. Gli alletti. Buongiorno. 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 Ipaniele. Buongiorno. Grazie a tutti.